Giochi della Chimica 2022 è il Liborio Ferrara del Mottura a traguardare il punteggio più alto in provincia di Caltanissetta. Si è svolta lo scorso 14 maggio al Campus Papardo dell'Università di Messina la cerimonia di premiazione delle finali regionali dei Giochi della Chimica. Un anno da record il 2022 visto che il numero di iscritti per la Sicilia è stato di 724 studenti che hanno rappresentato 56 istituti scolastici. Per la provincia di Caltanissetta nella categoria B, cioè quella del triennio del liceo, il miglior punteggio lo ha ottenuto proprio Liborio Ferrara, studente dell'Istituto Mottura che frequenta la quinta G del liceo scientifico Scienze Applicate. La delegazione del Mottura, oltre che da Ferrara e Federica Lachina della quinta G, era composta anche da due ragazzi di primo anno della classe prima C del Liti. Alessandro Pio Zappalà e Riccardo Di Gloria che pur frequentando solo il primo anno ha ottenuto un buon punteggio nella categoria A. Accompagnati dalla docente di chimica Sandra Stringi, referente del progetto Olimpiadi di chimica per il Mottura, gli studenti hanno affrontato la prova con determinazione. Dopo la premiazione il giovane Liborio ha ricevuto i complimenti della dirigente scolastica Laura Zurli e dell'insegnante di chimica Pompea Milazzo. Spiega la dirigente scolastica, la chimica in un istituto industriale è una disciplina portante perché potenzia le capacità degli alunni in modo trasversale, le accompagnerà nella scelta universitaria e sono quindi grata ai docenti per l'impegno profuso.